Ancora un grande successo di pubblico per la seconda serata del Taranto Jazz Festival all'ex mercato coperto di Bianfi Teatro. Dopo Avitabile il pubblico ha vissuto una serata magica con i Latin Mood, il sessetto guidato dalla trombettista Fabrizio Bosso e dalla sassofonista Avie Girotto, che fa dell'incontro tra diverse culture ed estrazioni musicali il proprio tratto distintivo, accanto a due colossi del jazz mondiale Natalio Mangalavite, Luca Bulgarelli, Lorenzo Tucci e Bruno Marcozzi. È stato un viaggio fra gli angoli più reconditi della Sud America, spaziando tra ritmiche uruguayane e peruviane e generi come lo iorupo-venezuelano, il frevo-brasiliano e la mambo. Le radici diciamo sono quelle latine, le forme ritmiche, ovviamente la viere, la stagione, la stagione, la stagione, poi noi ci mettiamo dentro, no, che ognuno interpreta quella musica lì, questo pensiero. Chiusura domenica 24 con la serata gratuita dei T-Riot e il 25 agosto ci sarà l'atteso concerto di recupero di Sergio Cammariere.